Questo è uno degli incontri che cominciano a consolidarsi, non c'è una CNA che ringraziamo. Questa struttura si sta caratterizzando per un punto proprio di confronto sugli aspetti di carattere ambientale, sullo sviluppo sostenibile ed è fondamentale la presenza dell'impresa su questo tipo di discorsi. Per cui ne siamo grati a CNA che lo propone, siamo grati anche agli imprenditori e anche ai privati che sono presenti perché dimostrano una sensibilità e anche la percezione di un'opportunità che è importantissima in una fase in cui gli elementi di speranza devono sicuramente essere enfatizzati perché viviamo momenti di depressione anche culturale e di motivazione. Quindi parlare di queste cose, parlare di ambiente, parlare di impresa, parlare di possibilità di sviluppo dell'impresa all'interno di un quadro di grandi difficoltà secondo me è fondamentale perché sarà la modalità di sviluppo del futuro, sia per una ragione in carattere economico sia per una ragione molto più concreta di sostenibilità e di esistenza del pianeta stesso. Il pianeta evidentemente esisterà ancora, potrebbe non esistere più la specie. Quindi da questo punto di vista ringrazio. Scusate